C'è qualche episodio in particolare che ci può raccontare? Mi hanno regalato un babà di sette chili con la panna di quale vi ringrazio ancora tutti, abbiamo mangiato con tutta la troupe davvero buoni E altri progetti futuri, professionali? In questo momento mi occupo di questo e poi più avanti uscirà un'altra serie per Rai 1 che si chiama Rai 6 Ma ha deciso di fare l'attore impegnato come Beppe Fiorello? Oddio, magari, magari io lascio seguire i progetti che mi piacciono per ora sono questi, speriamo che possono piacere a casa Che riscontro si aspetta da questa miniserie? Io mi auguro che possa veramente essere vista dai ragazzi, dai giovani e che possa risvegliare un po' la voglia di onestà Grazie mille, la ringrazio e in bocca al lupo per gli aspetti E' tutto, mi vale Grazie mille 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 Grazie mille